Dall'appassionato di cultura e storia locale, Peppino Iuliano, sentiamo uno dei motivi per venire a Nusco. Ma forse... Prendiamo in prestito il titolo di un giornale di molti anni fa, Nusco Cantuccio di Luce, e ancora Nusco Gemma di Valcalore. Queste due definizioni di per sé chiariscono che cosa significa Nusco come ambiente, come territorio, come bellezza. E quindi considerare questi aspetti uniti alle bellezze architettoniche, quindi oltre quelle ambientali, quelle architettoniche, artistiche, le diverse chiese, non dimentichiamo che Nusco è stata sede di diocesi, anche la ricchezza del verde. E quindi mettendo assieme aspetti ambientali con aspetti artistici, ne viene fuori il possesso del territorio, questa integrazione tra la curiosità di chi viene e l'offerta che è gratuita nella sua interezza. E poi considerare gli aspetti, diciamo così, secondari. C'è questo centro di documentazione sulla poesia del Sud, sempre, diciamo, in fieri, che oggi forse conta un patrimonio librario di oltre 10.000 testi. E quindi se riesce ad andare, diciamo, in porto a questa iniziativa, avere una biblioteca con la possibilità di interagire con diverse università che potranno studiare la poesia meridionale proprio qui a Nusco. E quindi, ritorno al discorso, diciamo, principe, Nusco Cantuccio di luce, Nusco Gemma di Valcalore, che già di per sé sono definizioni poetiche, e quindi la poesia è qui di casa. Grazie.